Ciao a tutti amici! Siamo tornate, c'è anche Chloe la koala. Siamo in versione pigiama party perché abbiamo deciso di trascorrere la serata giocando finalmente al famoso non ho mai che ci avete consigliato negli scorsi video. Secondo me ci avete consigliato di farlo alcolico, abbiamo detto chi siamo noi per andare contro la tradizione e non comportarci davvero lesbiche e quindi abbiamo deciso di bere. Allora prima leggerò quelli che mi avete scritto su instagram. Dopodiché passeremo all'applicazione non ho mai la fantasia. Non ho mai usato uno strap on. Non ho mai mangiato un insetto. Ma vale se mentre corro mi entra un boccio in mecca. Eh allora te lo sei maniato. Quello schifo! Stavo correndo, parlavo tipo... Non ho mai mandato affanculo una persona. Dici le regole per vivere al meglio la giornata, cioè come stai? Quando ti svegli dici buongiorno, il mio video diceva affanculo. Non ho mai mangiato la terra o la neve? La neve, la neve, la neve, la neve. L'ho già finita. Però... Ah ma minchia ma che sorso mi stai facendo? Non ho mai preso il gioco, scusa. Non ho mai suonato il flauto dolce, neanche alle medie. Violino forever. Cos'è il flauto dolce? Ho visto un'auto dolce quello che... E perché hai bevuto? Eh perché il flauto l'ho suonato, non so se era dolce o vino. Non gli ho mai chiesto. Non gli ho mai chiesto se era dolce. Ti ci sei rapportata un attimo. Non ho mai amato un ragazzo. No. Non credo fosse amore, amore in realtà. Non ho mai chiamato il mio partner con un altro nome mentre facevamo sesso. No. Che brutta persona che sei. Se mi stai guardando, ciao. La mia ex con cui ho oltretutto un rapporto ottimo adesso, la primissima volta che l'abbiamo fatto, l'ho chiamata con il nome di un'amica in comune. Non ho mai... Oh, io sto già bevendo. Nel frattempo stiamo usando l'app. Non ho mai tradito un partner con un ex. Cioè, quindi qualcuno con cui stai al momento tradito con un ex. No. Non ho mai preso in giro il femminismo. Ciao Elisa. Perché poi, anche qua il femminismo dobbiamo anche un attimo... Sì, facciamo un attimo un background. Spiegarlo. Cioè, spieghiamo il background del femminismo. Perché le cose estremizzate fanno sempre male. E noi prendiamo sempre gioco di questa amica che abbiamo. che ogni volta che si parla male magari di qualcuno... Oh, non fare body shaming. Oh, non fare la stronza. Stai parlando di una ragazza a non dire con non usare queste parole. Siamo parlando di una vegana. Di una vegana femminista. Una combo, raga, che veramente... Non ho mai rotto il naso a qualcuno. Il naso no. Ma un dente si dì brutto. Hai rotto il dente a qualcuno? Hai fatto botte? No. Ma che facciona, eh? Dicci. Ero io quella che doveva fare tipo... Nascondino. Ero io che andavo in giro a cercare e dicevo Tana per... Cazzo, questo qui era l'ultimo rimasto in gioco e poteva liberare tutti se arrivava in Tana. O per? Minchia, lo vedo scattare. Giù di sgambetto per non farlo arrivare. Pantite. Io non perdo mai. No. Non ho mai subito la rottura di una relazione. Alla nostra. Alla nostra rottura. Non ho mai causato una rottura. No. Non ho mai perso un membro della famiglia. mio nonno non fa parte da mia famiglia. Io mai. L'ho detto mai. Non ho mai avuto morti in famiglia. Mie nonno non ero viva. Basta. Non ho mai avuto svenimenti dovuti a soffocamento. Scusa. Questa ve la racconto. Sono andata a Rimini, Riccione, per la vacanza dei miei 18 anni. No, ho quel co. Brava. E siamo state all'altro mondo studios. Quando c'era la... Lo schiuma party. In mezzo all'arresta siamo per sbaglio finiti sotto un bocchettone della schiuma. Ma no. Stavamo morendo soffocate. Te lo giuro. Per fortuna mi ha salvato un ragazzo. Non ho mai rubato cibo da un contadino. Ero tipo in vacanza con i miei amici a Pestum, che è tipo in Campania, no? E vicino c'era un orto di un contadino e di brutto andavamo lì e avevamo rubato tipo le angurie, l'insalata, le pesche. Praticamente invece che... Eh dai, roba... Roba in... Andavamo a contadini. Non ho mai fatto cose con una persona dello staff scolastico. Tipo la bidella? No, ma avrei voluto tantissimo farmi la mia propria italiana. Se mi vede... Ogni lasciata è persa. Ciao, cuore. Dovevi riprenderla nel fior fior degli anni. Ormai sta decadendo. Cioè... Non ho mai avuto paura di impegnarmi. Cacca pennella. Storia of my life. Non ho mai continuato una relazione per sesso piuttosto che per amore. Non ho mai guardato Two Girls One Cup. Beh, qual'è? Eccolo con... Con le tizie... Le due ragazze che... Non è Two Brock... Two... Two... Two Girls One Cup. Quelle che vendono... Andiamo a cercare. Ma tu stai parlando di un telefilm? È un porno! Ma se scusa... Tu parli... Di Two Brock Girls... Tu parli... Lacrimo... È un porno. Tu parli di Two... Di Two Brock Girls. Le due ragazze che vendono maf... Andiamo a vedere questo porno. Cerca Two Girls One Cup. Non ho mai... Fatto una puzzetta... In presenza dei miei parenti... Per poi incolpare il cane. Che brutta persona! Ascolta... Mi scappava... E Cora era lì... Povera Cora... Io l'ho fatta... E poi ho detto... Cora che schifo! Non ho mai pianto davanti al partner... Ma pianti buoni o pianti buoni? Ti prego non lasciarmi... Non ho mai baciato qualcuno al primo appuntamento... Non ho mai fatto un succhiotto... Dai... Le basi 12 anni... Ma non mi piacciono... Ma è piaciuto... Ma uno la mai... La è... Per se... 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 Ne facciamo ancora 5 ragazzi... Gli ultimi 5... Non ho mai... Eh... Qua bisogna vedere se si è umidi... Ha avuto un partner al di sopra del mio livello... Bleh... Hai risposto... Di umidità zero... No, ascolta... Per me non c'è nessuno... Non ho mai baciato qualcuno dopo aver vomitato... Io non ho mai vomitato in vita mia... Cioè, quando ero piccola... Ma adesso che sono cresciuta, no... Anche l'altro giorno... L'altro giorno, sì... Quando sono andata a bada e mi sono bregata a merda... Cioè, ci ho provato con tutto il quale mai... E mi ha chiedita... E mi vuole amare... Non ho mai... Odiato un amico del partner... Non ho mai baciato qualcuno con un piercing sulla lingua... Me stessa vale... Ce l'avevo... Come di autobaci... Non ho mai fatto cose con un amico di qualcuno... Per provocarne la gelosia... Beh, dai, questa falla... Non ho mai tolto i vestiti al partner con i denti... Come siamo focose... Ragazzi, io direi basta perché ci siamo seccati quasi due birre... Ehm... È stato molto interessante... Quest'app la tengo... Si può fare... Si possono fare giochi a cose... Possiamo ubriacarsi tutti i giorni... Sì, così pesa... Sì, così pesa... Ringraziamo Claudia di nuovo di essere stata con noi... 50 euro... Ma non dirlo davanti alla camera, no... Cioè, voglio spiegarti... Le basi... Facciamo una cosa... Proponiamo una sfida, tipo... Se arriviamo a 5.000 visualizzazioni... Ci mettiamo a correre per il centro della città... Con questi fantastici e sobri pigiami... Quindi condividete il più possibile... E consigliateci anche che cosa... Di che cosa parlare nei prossimi video... E... Saluta... Oh... Oh... Raga... Non so se si è sentito... Ma ci ha perso un polso... E... Ciao a tutti amici... Alla prossima... Ciao a tutti... 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 Ciao a tutti...